L'Agenzia per la coesione territoriale ha approvato e quindi finanziato il progetto dell'Università degli Studi del Molise per la realizzazione del centro di ricerca Polo o ecosistemi sostenibili per salute, ambiente e transizione energetica. Un risultato importante per l'Ateneo Molisano che ha lavorato alla presentazione del progetto altamente innovativo. Soddisfazione è stata espressa dal Rettore Luca Brunese che ha visti premiati gli sforzi messi in campo dal gruppo che ha lavorato alla stesura del piano. Un vero e proprio Polo per gli ecosistemi sostenibili in ambito di salute, ambiente e transizione energetica è il famoso bando dell'Agenzia di coesione che ci ha fatto un po' penare. Noi eravamo convinti dell'efficacia del progetto e anche di aver risposto a tutte le richieste del bando. E' stato un po' più complesso del previsto perché l'Agenzia di coesione ci aveva proposto un finanziamento del 50%, noi abbiamo preferito ricorrere invece al TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale ha dato la sospensiva e in autotutela l'Agenzia di coesione ha deciso di concederci il finanziamento in toto. Si tratta di 28 milioni, un finanziamento molto importante che secondo me può consentire di costruire una nuova grande struttura di ricerca in Molise e un grande spunto per i prossimi anni, anche perché non siamo soli, abbiamo dei partner in questo progetto. Partner importanti sia dal punto di vista pubblico che di partner privati. Tra il pubblico abbiamo con noi l'ASREM, abbiamo il Comune di Campobasso e anche altre università, c'è Genova, c'è Messina e c'è Van Vitelli con noi. Tra i partner privati abbiamo la Molisana, c'è il Neuromed, c'è il Sviluppo Italia, ammesso di volerlo consigliare un privato e anche altre aziende di rilevo nazionale, c'è Nikon, c'è Samsung, è un progetto molto importante. La compagine era secondo me formata molto bene ed era anche coesa sul progetto, quindi ognuno dei partecipanti ha un asset importante da garantire allo sviluppo del progetto che sono sicuro ci darà grandi soddisfazioni.